E' con grande piacere che accolgo anche questa settimana nei nostri studi il medico di medicina generale, dottor Paolo Cascavilla. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Allora, dottor Cascavilla, oggi parliamo di dipendenze, dipendenze vecchie, dipendenze nuove. Potremmo dire, volendo utilizzare un'immagine plastica, identificare queste dipendenze come un labirinto. Le dipendenze sono diventate sempre più precoci. Perché? Perché le dipendenze sono lo specchio dei nostri tempi. Perché oggi tutto viaggia, i tempi nostri viaggiano, sono scanditi da un'accelerazione costante e progressiva. Tutto viaggia in modo veloce, velocissimo, non rispettando i tempi, i ritmi di maturazione. Ma la vita non è una corsa, è un cammino. E allora i nostri meccanismi fisiologici, biologici, non viaggiano con lo stesso ritmo sfrenato. Hanno un passo più lento. Se un bimbo nasce prematuro, lo si mette nell'incubatrice. Ma un cervello giovanile, in via di sviluppo, non posso metterlo sotto incubazione. Ha bisogno di tempi di maturazione. È un cantiere ancora dalle fondamenta fragili e molto vulnerabili. Dottor Cascavilla, individuiamo tre ceppi di dipendenze. L'alcol, la droga e la ludopatia. Lasciamo fuori il fumo perché ne abbiamo già dedicato una puntata a quello, ma è un altro tipo di dipendenza. Allora, l'alcol, partiamo dall'alcol. A che età si comincia? Perché? Quali rischi si corrono soprattutto? Dunque, l'alcol è una droga. È una droga che ha potere anche cancerogeno e, se usato in eccesso, può dare anche il rischio di demenze. Naturalmente, il bicchiere di vino che accompagna il pasto da secoli è entrato nella cultura dei popoli e il frutto della vite rallegra il pasto dell'uomo. Ma questo legame tra alcol, vino e pasto si è rotto, si è infranto attualmente. Perché oggi si beve lontano dai pasti, soprattutto i giovani. E questo cosa crea? Crea la porta per l'eccesso e la possibilità di incorrere nella dipendenza vera e propria. Il vino o l'alcol fuori pasto viene assimilato, assorbito molto più velocemente. I giovani oggi sono molto soggetti a questa piaga. Si inizia a bere molto precocemente, dopo le scuole medie. Si beve nei luoghi di ritrovo, nei luoghi di socializzazione. Spesso, in un tempo ristretto, si assumono molte, molte, molta quantità di alcol e poi si finisce al pronto soccorso. Ma dobbiamo sapere che nei giovani determina alterazioni del pensiero, dell'attenzione, delle emotività comportamentali e anche disturbi del sonno. E sappiamo quanto il sonno sia importante per la crescita mentale. Da noi medici di medicina generale spesso vengono giovani perché sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine in condizioni di ebbrezza o di limiti superiori a quelli consentiti. Quello è un momento molto importante per il medico di medicina generale. Cioè è un momento di riflessione col giovane in modo pacato ma fermo sulle responsabilità che corre sia lui che gli altri. E infine l'alcol determina una disinibizione. Loro lo fanno per sentirsi più integrati nel gruppo. Ma questa disinibizione apre le porte all'uso di altre droghe. Ecco, altra dipendenza, le droghe. Anche qui apriamo una porta a dottor Cascavilla. Vorrei farle però solo questa domanda. Ha ancora senso parlare di droghe leggere e droghe pesanti? No, perché questa è una convinzione da sfatare. Poteva andare bene 30 anni fa. Oggi il contenuto, il principio attivo dei cannabinoidi, per fare un esempio, è molto molto superiore a quello di una volta. E oggi di droghe ne vengono sfornate tante, giorno per giorno. Una vera e propria ragnatela in cui i giovani rischiano di rimanere invischiati. E sono droghe spesso sintetiche che sfuggono ai controlli. Dove anche i medici non sanno bene come curare, perché non sanno cosa il giovane ha assunto. Bisogna anche dire che i giovani pensano che l'uso dei cannabinoidi o della cocaina migliori le prestazioni fisiche. Non è propriamente così. Anzi, accelera il processo di invecchiamento. E spesso danno dei fenomeni neuropsichici, per cui si rivolgono al medico di medicina generale proprio per la prescrizione, magari dopo essere stati dallo specialista, per disturbi neuropsichiatrici. E può dare poi a lungo andare anche la cannabis, la cosiddetta sindrome amotivazionale. C'è una disconnessione tra la vita dell'individuo e quella della società. E quindi una difficoltà anche ad entrare nel mondo del lavoro. Un'altra dipendenza, dottor Cascavilla, le stiamo toccando in maniera abbastanza veloce perché ci sarebbe bisogno di puntate ad hoc per approfondire questi argomenti. Parliamo della ludopatia, quindi dalla dipendenza, dal gioco d'azzardo, ma non solo. Grattevinci e altro. Chi e come viene coinvolto dalla ludopatia? E poi qual è l'importanza? C'è il coinvolgimento familiare? Qual è l'importanza della famiglia in tutto questo? Sì, oggi è una vera e propria emergenza, anche questa. Un milione e mezzo di italiani è entrato nella morsa del gioco d'azzardo. E le quote di soldi che vengono spese sono ingentissime. Addirittura stanno quasi per raggiungere la soglia della spesa per l'alimentazione, il carrello della spesa, quello che noi ci mettiamo. Anche qui i giovani sono molto, molto più soggetti perché accanto al gioco in presenza con macchinette proprio per l'aumentata dimestichezza dei giovani con i mezzi digitali, questo ha ampliato la platea dei giocatori. Si crea un vero e proprio ingranaggio mentale che poi difficilmente si può uscirne. Un paziente mi diceva io sento la suoneria nella testa, la suoneria delle macchine, delle macchine da gioco, perché è un richiamo irresistibile in quanto è un eco che viene da lontano, dal cervello antico, che è stato manomesso, quella scheda madre che è stata manomessa e che spinge nonostante le perdite. Anzi, la perdita non rappresenta un fenomeno che scoraggia. Esatto, un incentivo a smettere. No, ma anzi è un tassello di accanimento. Perché? Perché il cervello antico ha memorizzato la vincita e vuole, ha memorizzato quel picco di gratificazione dovuto a grande produzione di dopamina e l'ha memorizzato, stampato nel cervello. È un ingranaggio difficile per uscire da questo gioco d'azzardo. Cosa si può fare? Naturalmente, per uscire da questo labirinto, come diceva all'inizio, ci vorrebbe il mitico filo di Arianna, ma non ce l'abbiamo. Però già è molto che ne parliamo. Già è molto indurre la consapevolezza. Il primo passo è la prevenzione non ha età. Deve cominciare il più presto possibile dalle prime fasi della vita umana. Prevenzione che comincia dalla famiglia. La famiglia è un potente veicolo di passione, di entusiasmo per i giovani, ma anche la scuola, anche la scuola, ma anche la società. Mi piace dire anche che ultimamente ho avuto modo di constatare che ci sono iniziative alleanza scuola-famiglia che tendono a unire questi due mondi proprio per il bene dei ragazzi, anche collaboratori pratici di interazione scuola-famiglia. È importante per i giovani trovare una struttura, un contesto urbano-sociale che dia risposte alle loro inquietudini, ai loro bisogni e che riempia di vite e di progetti quei vuoti che spesso sono la premessa per avvicinarsi al mondo delle dipendenze. Quindi c'è una via d'uscita, dottor Cascavilla, l'abbiamo rappresentato come un labirinto, come una ragnatela a proposito delle droghe. Lei l'ha definita così, questa dipendenza, una ragnatela. Quindi è possibile uscire dalle dipendenze? Sempre, dobbiamo sempre avere questa speranza perché le forze interiori dell'essere umano sono ancora poco sfruttate. Se noi avessimo cognizione del mondo interiore che abbiamo dentro e delle sue forze, ne rimarremmo sorpresi e non dobbiamo essere succubi di queste forze esterne. Non bisogna mai arrendersi. E utilizzando lo stesso esempio fatto per le sigarette, il miglior grattevinci che uno possa acquistare è quello che non ha acquistato. Il grattevinci più vincente è quello che non si è acquistato, proprio per non iniziare assolutamente in questo cammino. Che non è divertimento, che forse non ha a che fare con il gioco. Si chiama gioco, ma forse non ha veramente nulla a che fare con la parola nel senso come dire più positivo che è il gioco. Allora, noi ci fermiamo qui dottor Cascavilla, ci ritroveremo appunto prossimamente anche la prossima settimana per un altro appuntamento con la salute. Grazie come sempre per la sua chiarezza e la sua disponibilità. Grazie al dottor Paolo Cascavilla per essere stato con noi. Appuntamento con Dica 33 il medico risponde la prossima settimana. Intanto, linea alla regia per proseguire come sempre con la nostra programmazione. Grazie a tutti.